È stato riattivato da lunedì il servizio pulizia a Palazzo San Francesco, almeno formalmente perché nei fatti si sta rimodulando il contratto. Nove delle dieci lavoratrici sono state riassunte a riassorbire dalla cooperativa di Acerra che si è aggiudicata la manifestazione di interesse e bandiera dal comune per 15 settimane. Una delle dieci ha rinunciato al posto di lavoro e la Filcams CGL della provincia dell'Aquila, che si sta occupando della vertenza, ha chiesto di redistribuire le ore di lavoro alle altre unità. Una proposta che la cooperativa ha subito accettato e proprio in queste ore si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli prima di ripartire a pieno regime con il servizio. Ma il segretario della Filcams Luigi Antonetti non abbassa la guardia e ha chiesto un tavolo urgente agli amministratori di Palazzo San Francesco, tanto a quelli di maggioranza quanto a quelli di opposizione, perché gli appalti per la gestione dei servizi comunali riguardano tutti. Ogni cambio di appalto siamo alle prese con le solite problematiche, servizi che si interrompono, ore da incrementare, costi per i personali da mantenere. E il caso che si risolva una volta per tutta questa situazione si pianifichi così una strategia, interviene Antonetti, che riprende in parte l'appello lanciato nei giorni scorsi dal vice sindaco Nicola Angelucci, quando rassicurava la popolazione sulla gara per il servizio di assistenza informatica. Quella determina, peraltro, è stata firmata dal funzionario Fabrizio Petrilli, dopo aver ricevuto le consegne dalla vice segretaria Katia Panella, per due giorni in malattia. Su servizio pulizie pende poi un esposto alla Procura della Repubblica, presentato dal sindacato per interruzione di pubblico servizio.